La battaglia si gioca tutta sulla competitività per uno zuccherificio che per sopravvivere deve raggiungere l'efficienza agricola e quella industriale per non perdere fette di mercato, ora che nel 2017 scadranno le quote zucchero e i sussidi europei a garanzia del settore. Il monito lanciato a Isernia dall'ex ministro Paolo De Castro è stato chiaro, bisogna lavorare tutti insieme per riuscire a mantenere uno stabilimento al sud ed evitare la chiusura schiacciati dalle realtà più organizzate e virtuose del nord Europa, un pericolo reale per lo zuccherificio del Molise, ancora le prese con i pagamenti ai bieticoltori per la campagna 2013, con il piano industriale per la prossima stagione e la vendita della fabbrica, dopo che per tre volte nessuno ha risposto al bando. Intanto in azienda si è svolto l'incontro decisivo con le associazioni di categoria che hanno ricevuto dai bieticoltori il mandato per trovare un'intesa sul saldo e per chiedere garanzie anche sul possibile recupero dei 5 euro e 10 centesimi a tonnellata ora scontati per consentire di fatto anche di approvare il bilancio. Al tavolo erano presenti il manager Alberto Alfieri, il procuratore speciale Nicola Baranello, l'assessore regionale dell'agricoltura Vittorino Facciolla e il delegato per la regione Puglia Nicola Tedone. C'è accordo per il pagamento del saldo, ma è stata chiesta una garanzia attraverso il pegno dello zucchero e di altri prodotti per assicurare le rate secondo il calendario previsto fino a giugno. Si è parlato anche della prossima campagna, c'è la volontà di farla e non sono state escluse anche le semine primaverili. Le varie proposte saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione e nei prossimi giorni si conosceranno le decisioni.